Presso il centro commerciale Diano torna oggi la corona di Miss Italia realizzata da Meluna e che ogni anno viene indossata dalla ragazza più bella d'Italia che ha superato attente e lunghe selezioni prima di raggiungere il palcoscenico più ambito e che negli anni ha lanciato numerose giovani ragazze che si sono poi distinte nel mondo dello spettacolo. Torna dunque il concorso più importante e soprattutto la corona più bella nel Vallo di Diano grazie alla gioielleria e il gioiello rivenditore ufficiale di Meluna che oggi ospita dunque la Miss Italia in carica ossia Francesca Bergesio eletta Miss Italia nel settembre 2023 con indosso la corona ufficiale delle Miss realizzata dalla Meluna partner dell'iniziativa. Un importante appuntamento anche perché consente a quanti raggiungono il centro commerciale Diano e la gioielleria di Luigi Mele di poter indossare la corona per scattare una foto speciale e per vivere un momento indimenticabile. Inoltre l'iniziativa promossa del gioiello consente anche di poter ricevere importanti buoni sconto per l'acquisto di un gioiello targato Miluna. L'arrivo di Miss Italia della corona previsto per le ore 16 si conclude nella serata e per alcune ore dunque consente di vivere la bellezza e il fascino di Miss Italia in tutte le sue sfaccettature conoscendo dunque la vincitrice del concorso del 2023 e indossando la straordinaria corona della Miluna. Per ottenere lo sconto per l'acquisto di un prodotto Miluna è sufficiente compilare il form di contatto con la partecipazione all'evento in programma per oggi 16 marzo presso il centro commerciale Diano ad Atena Lucana che consente la ricezione di un codice sconto su tutta la collezione.